Sorelle e fratelli carissimi, che ascoltate dalle parole del Divino Maestro il racconto del disegno di salvezza, voluto dal Padre, per l'umanità intera, pace a voi. Come domenica scorsa, la nostra meditazione è collocata all'interno del capitolo 21. I versetti 33-43, oggetto della nostra riflessione, sono infatti un'altra parabola, narrata da Gesù durante la sua predicazione al Tempio, dopo l'ingresso messianico in Gerusalemme. Il mistero pasquale, prossimo a compiersi, viene annunciato all'interno della narrazione dell'intera storia di salvezza. Davanti a Gesù vi sono sempre i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, uditori incapaci di comprendere la verità dell'annuncio messianico. Gesù usa ancora una volta l'immagine consueta della vigna, per narrare l'economia di salvezza voluta dal Padre. E' Yahweh, il Dio d'Israele, il padrone della terra che pianta una vigna. La vigna è il popolo dell'antica alleanza, curato e amato, come la vigna del padrone. La vigna è affidata a dei contadini, dopodiché il padrone se ne andò lontano. Versetto 33 Il riferimento è chiaro, quei contadini sono gli stessi capi dei sacerdoti e gli anziani Sembra che Gesù stia parlando con loro, in realtà sta parlando di loro, ma essi non se ne accorgono. Chi non ama la verità, pensa che i discorsi fatti in verità riguardino sempre gli altri. Così fanno i capi dei sacerdoti e gli anziani. Ascoltano astrattamente Gesù, pensando che le parole del Maestro si riferiscano a terze persone. Il loro modo di essere capi e sacerdoti non è minimamente in discussione nella coscienza personale e collettiva. La parabola sulle labbra di Gesù si snoda a tappe, viene il tempo di raccogliere i frutti nella vigna, ed ecco che allora il padrone manda i suoi servi dai contadini per ritirare il raccolto. Versetto 34 Il risvolto è tragico, infatti i contadini presero i servi e uno lo guardò. bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Versetto 35 I servi, nel linguaggio della parabola, sono i profeti inviati da Dio durante lo svolgersi della storia di salvezza del popolo di Israele. Ma i contadini che rappresentano i capi del popolo e i sacerdoti rifiutano gli inviati di Dio, arrivando perfino ad annientarli, uccidendoli. L'amore per la vigna da parte del padrone si manifesta con un nuovo invio di servi, più numerosi dei primi, dice il testo evangelico. Dio, nonostante il rifiuto del suo popolo, non ha mai smesso di inviare a Israele i suoi profeti. Anzi, ne ha aumentato il numero durante il percorso storico. Il risultato, però, è a dir poco deludente. Li trattarono allo stesso modo. Versetto 36 Il proprietario della vigna allora fa il salto di qualità. Fino ad ora ha mandato dei servi. Adesso invia il figlio, suo figlio, dicendo a se stesso, avranno rispetto per mio figlio. Versetto 37 Ma non sarà così. L'azione è ben pianificata. Costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. Versetto 38 L'azione è immediata e conseguente. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Versetto 39 Gesù sta parlando di sé, del suo destino pasquale, prossimo a compiersi. Verrà, infatti, da lì a poco, crocifisso, fuori dalle mura di Gerusalemme. È il figlio inviato, rifiutato, annientato. Il discorso di Gesù arriva, al dunque, con l'interrogativo rivolto ai capi. Quando verrà, dunque, il padrone della vigna? Che cosa farà a quei contadini? Versetto 40 La domanda è un interrogativo autenticante, uno di quelli che Gesù compie ogni tanto alla coscienza dei suoi interlocutori, perché arrivino alla verità. La risposta, però, così slanciata e spontanea, si rivela, in realtà, un'autocondanna. Infatti, gli risposero, quei malvagi li farà morire miseramente, e darà la sua vigna ad altri contadini, che gli consegneranno frutti a suo tempo. Versetto 41 I capi dei sacerdoti e gli anziani, chiamati ad essere i servitori del cammino di salvezza del popolo di Israele, Nel nome del sacro sono diventati, presuntuosamente, i padroni della salvezza. Non camminano, né fanno camminare gli altri per la via di Dio, incapaci, come sono, di cogliere l'azione salvifica di Yahweh, che si svolge davanti ai loro occhi. Per questo, Gesù, proprio come farebbe un profeta, indica la via di Dio, riferendo il suo operato alle sacre scritture, che si stanno compiendo in Lui. Non avete mai letto nelle scritture, la pietra che i costruttori hanno scartato, è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, ed è una meraviglia ai nostri occhi. Versetto 42 Sappiamo che le parole di Gesù si riferiscono esplicitamente al Salmo 118, i versetti 22 e 23, e sottintendono quelle del profeta Isaia, al capitolo 28, versetto 16. Sono parole antiche che trovano nell'azione del Messia il loro compimento. Gesù è la pietra angolare, scartata dai costruttori. È stata giudicata non idonea. Rifiutata nel suo apparire, diviene in realtà pietra fondante. Le parole del Signore diventano ancora più chiare, se si pensa alle tecniche costruttive del tempo. Nella costruzione degli antichi edifici, all'angolo delle camere venivano collocate grandi pietre di fondazione, non belle a vedersi, ma forti e consistenti nella loro portata, tanto da essere collocate come pietre di fondazione, sulle quali poter poi costruire. Scartate, da un punto di vista estetico, venivano impiegate per dare stabilità e consistenza all'edificio, quali pietre di fondazione. Gesù, dunque, è la pietra giudicata inidonea, perciò scartata dai costruttori. I capi dei sommi sacerdoti e gli anziani lo rifiutano come Messia. Ma l'opera di Dio è un'altra. Rifiutato dagli uomini, viene scelto da Dio come fondamento di un nuovo edificio, di una nuova alleanza, di un nuovo popolo. È questa l'opera meravigliosa di Dio che sta davanti ai nostri occhi. Il versetto 43, conclusivo del brano odierno della liturgia, è una sorta di sentenza storica, risultato finale del rifiuto di Gesù. Il Messia parla con autorevolezza i capi. Per questo usa l'espressione, perciò io vi dico. Questa autorevolezza sfocerà nella condanna finale. Come non leggere nelle parole di Gesù, fratelli e sorelle carissimi, in riferimento al popolo della nuova alleanza. Un popolo che si affida totalmente a Dio, nella persona di Gesù, nella sua opera. Un popolo che ha costruito il suo essere edificio spirituale, fatto di pietre vive e scolpite dallo spirito, avendo a fondamento lo stesso Gesù, pietra angolare, scartata dagli uomini e divenuta testata d'angolo. Guardiamo, carissimi, a questa meraviglia compiuta da Dio. Riconoscenti per aver creduto, partecipi del mistero di Dio che si svolge sotto il nostro sguardo di fede, innalziamo il perenne inno di lode al Padre, datore di ogni bene. Lasciamo che la nostra vita sia edificata ogni giorno dallo Spirito, fondati in Cristo, pietra angolare della nostra salvezza. Amen.